salve a tutti amici e amiche eccomi qui oggi su un tema a cui davvero tengo molto la storia del combattimento aereo e che però essendo un argomento molto lungo dovrò per forza dividerlo in più parti la prima parte quindi questo primo video sarà dedicata dalle origini fino alla seconda guerra mondiale come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale qui in basso a sinistra c'è il pulsantino per farlo il combattimento aereo in realtà nacque con le mongolfiere e i dirigibili con azioni di bombardamento per lo più già dalla seconda metà dell'ottocento ma con l'arrivo degli aeroplani o almeno appena questi raggiunsero delle prestazioni accettabili l'idea di portare a bordo delle armi anche se terribile si dimostrò fattibile il primo caso di combattimento fra due aerei ebbe luogo durante la rivoluzione messicana il 30 novembre 1913 fra due mercenari americani che si erano schierati sui fronti opposti ma dato che nessuno dei due voleva ferire l'altro effettuarono numerose manovre sparandosi colpi di pistola e mancandosi volontariamente prima di finire le scorte di munizioni questo duello dalla descrizione così bizzarra ha ispirato a yao miazaki nella scena che si vede in porco rosso quando dopo un estenuante dogfight porco e curtis che erano rivali in amore iniziano a spararsi con la pistola e a tirarsi addosso i pezzi del proprio aeroplano è una scena esilarante e vi consiglio di vedere il film il romanticismo e la nobiltà d'animo però finirono presto e infatti a noi italiani spetta il triste primato di avere inventato il bombardamento aereo il primo novembre 1911 nella guerra libico ottomana l'aviatore giulio gavotti fu il primo a lanciare quattro granate da un aeroplano e così poi nel 1914 si registra il primo vero duello aereo della storia che si concluse con la vittoria di uno dei protagonisti si svolse nella regione del reims il 5 ottobre 1914 all'inizio della prima guerra mondiale mentre l'otto settembre 1914 un aviatore russo lanciò volontariamente il suo moran contro un albatros austro-ungarico nella regione di zovka con una particolare manovra chiamata taran o in inglese ramming che portò alla distruzione di entrambi gli aerei e alla morte dei loro occupanti in sostanza la manovra consisteva nel cercare di fare a pezzi l'aeronemico con la propria elica questa pratica poi avrà i suoi casi estremi durante la seconda guerra mondiale ma noi parleremo più avanti inizialmente gli aerei impiegati nella prima guerra mondiale realtà svolgevano il ruolo di ricognitori essendo più mobili e più difficili da colpire delle mongolfiere e dei dirigibili queste ricognizioni come si può immaginare servivano a fare spionaggio per vedere gli spostamenti del nemico e soprattutto organizzare il tiro dell'artiglieria come spesso accadeva questi aerei avevano un equipaggio di due uomini il pilota e l'osservatore quest'ultimo era anche armato quindi dobbiamo immaginare i primi combattimenti aerei portati avanti così con il pilota che pilotava e il mitragliere che brandeggiava la mitragliatrice dalla postazione dell'osservatore l'idea di montare una mitragliatrice sull'asse longitudinale fissa arrivò subito dopo tra l'altro questa posizione in italiano viene definita in caccia e se oggi si usa questo termine per gli aerei da caccia è proprio per questo motivo c'erano problemi però di natura tecnologica perché la mitragliatrice per poter essere utilizzata aveva bisogno di essere montata a portata di mano del pilota da una posizione da cui potesse mirare ed eventualmente sbloccarla se si fosse inceppata peccato però che davanti al muso ci fosse il disco dell'elica e quindi direte come risolsero non lo fecero cioè per citare barba scura lo fecero male infatti i primi modelli semplicemente sparavano attraverso il disco dell'elica nella speranza che qualche colpo passasse senza distruggere l'elica stessa per evitare ciò furono piazzate delle piastre metalliche per proteggerla ma ecco l'altra faccia della medaglia era che il più delle volte i colpi rimbalzavano da tutte le parti e tornavano anche indietro quando si dice il karma a risolvere il problema ci pensarono i tedeschi nel 1915 inventarono il sincronizzatore cioè una sorta di otturatore che impediva alla mitragliatrice di sparare nel momento del passaggio dell'elica e permettere così una migliore precisione dal 1915 al 1918 con queste tecnologie il combattimento aereo prendeva definitivamente forma e nacquero anche le regole fondamentali che lo disciplinano all'inizio i piloti si lanciavano nei duelli senza particolari strategie possiamo immaginarlo un po come avviene nei videogiochi un po tutti contro tutti dove si virava e basta senza particolari tattiche solo pochi piloti riuscivano ad abbattere altri aeroplani senza essere abbattuti a loro volta e così sopravvivere sui giornali francesi dell'epoca nacque il termine asso che definiva chi fosse riuscito ad abbattere cinque aerei nemici in quegli anni un giovane ufficiale di cavalleria un tale manfred von richtofen dopo aver conseguito dei successi militari sul campo si appassionava all'aviazione e nel 1915 finiva a bordo di un aereo come osservatore nelle sue prime azioni su un aereo biposto con elica spingente e cui appunto lui faceva da osservatore per il tiro dell'artiglieria si giocò un dito giusto per indicare una postazione nemica al pilota secondo voi come accadde avete presente quando indichi col dito qualcosa magari proprio lì dove sta girando l'elica è un attimo dopo il dito non c'è più poi lui raccontò che volando in quota facendo un freddo cane non si accorse praticamente del fatto se non più tardi ecco oltre a questo la fortuna di manfred von richtofen o sfortuna se vogliamo chiamarla dipende dai punti di vista fu quella di incontrare in treno oswald belche che è considerato il padre della disciplina del combattimento aereo belche lo convinse a studiare per diventare pilota e manfred che era un tipo sveglio adottò le sue idee in modo ferreo unite poi al grande intuito per la collimazione dovuto soprattutto al fatto che il giovane barone rosso era cresciuto facendo caccia al cervo quindi aveva un grande intuito per colpire un bersaglio in movimento in cui appunto bisognava sparare mirando più avanti rispetto ad esso questi due aspetti permisero al barone rosso di conseguire oltre 80 vittorie fino alla sua tragica fine in aprile del 1918 vi consiglio di leggere il suo libro o guardare un bel film biografico che si chiama appunto the red baron ma quali furono le intuizioni di belche come ho detto prima nei primi scontri aerei le cose avvenivano in modo casuale ci si affidava alla fortuna insomma ma era chiaro che questo non era accettabile anche perché credetemi a quel tempo i piloti morivano come mosche i colpi delle mitriatrici poi non avevano quasi effetto sugli aeroplani coperti di tela che potevano riempirsi di buchi e continuare a volare invece colpire il pilota o incendiare il serbatoio significava fare una fine orrenda garantito tanto che i paracadute non erano diffusi e le uniche possibilità in caso di incendio per il pilota erano due lanciarsi nel vuoto o usare la pistola la dottrina di belche da prima utilizzata dai tedeschi però poi presto si diffuse anche fra i piloti francesi e inglesi si basava sul principio del vantaggio cioè un pilota doveva ingaggiare il combattimento solo se in una situazione di vantaggio questi vantaggi derivavano da quota velocità sorpresa manovrabilità superiorità numerica da subito si capirono i concetti fondamentali del trasferimento energetico quindi dopo il decollo si saliva in quota operazione che richiedeva molto tempo almeno la maggior parte del tempo concesso dall'autonomia e poi una volta avvistate le formazioni o i bombardieri nemici da una volta superiore la squadriglia poteva piombare impicchiata sull'avversario trasformando così l'energia potenziale in energia cinetica dopo aver sparato sulla formazione nemica con l'effetto sorpresa si tornava di nuovo su ripristinando parte dell'energia potenziale accumulata e così poter ripetere l'operazione questa tecnica viene oggi definita boom and zoom che significa più o meno mordi e fuggi con il vantaggio di quota che poteva trasformarsi in velocità si poteva decidere l'esito dello scontro controllarlo e così aumentare le possibilità di successo e limitare il rischio di venire uccisi da questa semplice regola del vantaggio e le sue varianti come per esempio quella di avere sempre il sole alle spalle e colpire il nemico di sorpresa il barone rosso divenne una leggenda perché appunto fu uno dei pochi a capire di non compiere atti eroici pazientare per colpire la preda migliore non superare i limiti di manovrabilità del proprio aeroplano e questo poi unito a una grande capacità di mira altri principi della dottrina di bell che sono tipici degli aeroplani della prima guerra mondiale che erano biplani che potevano virare molto stretto e non andavano molto veloci per cui descrivono quelle situazioni in cui se ci si fosse trovati alle strette e presi di mira si poteva cercare in qualche modo di ribaltare la situazione quindi frasi del tipo se l'avversario ti attacca attaccalo a tua volta oppure in qualsiasi tipo di attacco è essenziale attaccare l'avversario da dietro questi due queste due regole diventeranno presto obsolete e vedremo più avanti ma ci furono anche altri suggerimenti come per esempio sparare solo a colpo sicuro e da distanza ravvicinata non perdere mai di lista l'avversario neanche per un momento oppure se superi le linee nemiche ricordati sempre la rotta per tornare a casa e poi un'altra regola era non attaccare mai in tanti un unico avversario queste ultime regole sono molto valide ancora oggi ma ovviamente si applicano a tecnologie e situazioni molto diverse e anche a spazi molto più ampi ma per tornare alla prima guerra mondiale bisogna anche parlare di tecnologia le macchine erano già molto performanti come le nuove versioni del fokker newport lo spad softwit e anche il royal aircraft factory sea 5 ovviamente questi modelli più recenti non lasciavano scampo alle controparti più lente e meno maneggevoli come i bombardieri per esempio che erano indifesi o aeroplani meno moderni da queste supremazie tecnologiche nascono anche dei pregiudizi sul combattimento aereo concetti che sono duri a morire ancora oggi e soprattutto sopravvivono grazie a documentari generalisti come i history channel e certe convinzioni sono proprio dure a morire come una sorta di classificazione in due categorie distinte per gli aeroplani da combattimento dove alcuni li definiscono come angle fighter o energy fighter che sta appunto a indicare aerei che virano meglio oppure aerei più veloci che fanno attacchi migliori mordi e fuggi queste classificazioni sono profondamente sbagliate a livello ingegneristico quando si progetta un aeroplano si cercano tutte e due le cose cioè si vuole un aereo che vira bene ma è anche veloce perché appunto in teoria entrambe le cose sono importanti e non dovrebbero escludersi a vicenda ma come molti sanno un aeroplano è sempre il frutto di compromessi ingegneristici per cui più la superficie l'area è grande maggiore sarà la manovrabilità viceversa se la sarà più piccola l'aereo sarà più veloce quindi tutti gli sforzi nel momento in cui iniziarono ad apparire i monoplani furono nel cercare un compromesso e alla fine i risultati saranno sempre molto simili fra i modelli con differenze minime questa forma di pregiudizio poi troverà la sua massima espressione quando con un enorme serie di discorsi dietrologici si cercherà di classificare lo speed fire come un angle fighter cioè un aereo nato per virare e il bf 109 come un energy fighter sbagliato questi due aerei avevano prestazioni praticamente identiche ed era quasi impossibile per i piloti portarli al limite cioè non avendo tute anti g era molto più facile che il limite fosse dettato dal fattore umano piuttosto che dall'aeroplano e questi due modelli erano molto simili come prestazioni quindi ogni combattimento veniva determinato in realtà dalla posizione iniziale dei piloti e poi ogni combattimento era diverso dall'altro e tutto si verificava in pochi secondi e così via l'idea che i piloti inglesi cercassero il combattimento manovrato e quelli tedeschi attacchi mordi e fuggi e quindi molto sbagliata come ho detto la disciplina del combattimento aereo aveva le sue regole che i piloti intelligenti applicavano i comandanti di squadriglia cercavano di insegnare ai piloti più giovani per permettergli di sopravvivere questi studi e queste applicazioni di conseguenza venivano applicate a prescindere dalla macchina che si utilizzava e anche un pilota italiano di cr42 avrebbe preferito fare attacchi mordi e fuggi se possibile ma appunto avendo un biplano così lento rispetto ai monoplani inglesi alla fine non poteva fare altro che virare per evitare i colpi in arrivo e per tornare alla prima guerra mondiale insomma fra uno spad e un fokker d7 fra spitfire m109 e poi f4 corsair verso 0 o f86 verso mi 15 niente impediva ai piloti di fare comunque attacchi energetici a prescindere dalle buone doti di manovrabilità dell'aeroplano e così applicare il primo principio del combattimento aereo piuttosto che mettersi a virare come imbecilli e bruciare tutta l'energia disponibile e proprio sui concetti di trasformazione energetica da cinetica a potenziale e viceversa i pionieri del combattimento aereo della prima guerra mondiale inventavano soluzioni e figure acrobatiche che oggi sono il repertorio di ogni pilota da caccia il repertorio acrobatico che deve conoscere quindi manovre orizzontali e verticali come per esempio le schneider le immelman i looping le mezze s le imperiali le split s i tonno resteranno sempre attuali e però allo stesso tempo nel cinema e nella letteratura si faceva a strada l'idea romantica dell'asso l'eroe che aveva il manico il ben affleck di oggi che abbatte con destrezza i piloti di zero o un maverick di top gun che conquisterà hollywood e l'immaginario collettivo con assurdità come il rallento e mi faccio superare insomma da una parte è anche vero che nel cinema è più facile rappresentare gli eroismi in primo piano con i due aerei nella stessa inquadratura mentre il vero combattimento aereo con i suoi tempi lunghissimi e le attese che si risolvevano poi in dieci secondi di azione non erano altrettanto spettacolari in ogni caso grazie a questi principi che ho espresso e delle regole molto semplici di vantaggio d'energia fra il 1918 e il 1939 la tecnologia aeronautica si sviluppò molto rapidamente la maggior parte dei paesi industriali creò anche forze aeree separate dall'esercito e dalla marina e già nel 39 i biliplani militari furono sostituiti con monoplani con struttura in metallo spesso con rivestimenti lavoranti e motori raffreddati a liquido le velocità massime così erano triplicate e anche le tattiche del vantaggio di quota, posizione e effetto sorpresa si adatteranno alle nuove caratteristiche superiori in termini di prestazioni degli aeroplani le prime visaglie dei combattimenti aerei che caratterizzeranno la seconda guerra mondiale si riverificarono durante la guerra civile spagnola l'impiego del Bf 109E nella loro prima versione e delle tattiche dei piloti tedeschi in questo conflitto fece molto scalpore all'epoca, fece proprio notizia e fu anche un anticipo di quello che poi avverrà due anni dopo nella battaglia di Inghilterra è curioso anche notare che i CR32 e i CR42 italiani parteciparono al conflitto in Spagna scontrandosi contro i monoplani Polikarpov I-16 di costruzione russa questo monoplano del 34 aveva prestazioni mediocre sia in termini di velocità che di manovrabilità quindi in un certo senso i piloti italiani si trovarono in vantaggio ai comandi dei loro biplani avendo prestazioni migliori in termini di manovrabilità e velocità praticamente identiche mentre i tedeschi d'altro canto iniziarono ad applicare le loro conoscenze in quella che poi verrà definita la formazione Juarm a quattro dita i Bf 109 avevano velocità di punta migliori rispetto agli 16 e quindi questo permise ai piloti tedeschi di realizzare attacchi mordi e fuggi e poi di fuggire mentre si coprivano a vicenda per questo motivo iniziarono a volare in formazioni larghe parallelamente e negli istanti successivi all'attacco se uno degli elementi della formazione fosse stato inseguito da un aero nemico il compagno non avrebbe dovuto fare altro che chiudere la formazione e a questo punto si sarebbe trovato in coda all'avversario quindi immaginate di comporre la classica treccia con le tre linee sul foglio questo era un semplicissimo concetto di formazione larga ma molto efficace tatticamente per applicare questa tattica serviva poi anche una radio funzionante con dei canali selettivi cosa che si vedrà sempre sui bf 109 della Luftwaffe queste teorie come ho detto prima avevano la loro radice nella scuola di pensiero tedesca e purtroppo in italia durante la prima guerra mondiale non presero mai piede soprattutto nei vertici della nascente aeronautica ed è anche per questo che poi arrivammo al secondo conflitto mondiale con i biplani e nessun impianto radio a bordo il più delle volte con l'idea che il pilota italiano avrebbe sbaragliato l'avversario manovrando grazie alla sua scuola acrobatica e per carità nel ventennio i piloti si addestrarono molto alle figure acrobatiche il volo in formazione stretta, le parate ma ecco come ho detto prima il combattimento aereo richiedeva ben altre preparazioni radio molto efficienti e discipline che evitavano gli eroismi individuali questi aspetti che sto evidenziando ebbero un ruolo fondamentale durante la seconda guerra mondiale a partire dalla battaglia d'inghilterra dove perdevano la vita fino a 500 piloti al giorno il comando inglese fece di tutto per disciplinare i piloti che spesso venivano da paesi occupati e che parlavano lingue diverse ed evitare che questi piloti fossero fatti preda dalle formazioni tedesche che li sfasciavano in aria letteralmente fra l'altro c'è anche da notare che anche in Germania qualche generale continuava a insistere sulla formazioni strette e il combattimento manovrato nonostante assi come Galland che invece spingevano per una disciplina della Schwarm uno fra tutti fu Goering che notoriamente era un personaggio sopra le righe aveva completamente dimenticato la sua esperienza nel Flying Circus del Barone Rosso e continuava a insistere affinché i suoi piloti di Bf 109 scortassero in formazione stretta gli Enkel 111 e i Bf 110 le formazioni strette non servivano più a niente non impedivano ai piloti di Hurricane e Spitfire di mitragliare i bombardieri e ignorare la caccia di scorta perché questa non aveva il tempo per reagire e sono famose le missive di Galland in cui si lamentava continuamente della situazione e lasciava intendere quanto fosse stupida l'idea della scorta ravvicinata e che appunto la caccia avrebbe dovuto essere libera di muoversi sarebbe dovuta muoversi avrebbe dovuto muoversi liberamente e anticipare di molto i bombardieri con queste intuizioni Galland e la sua squadriglia infatti proprio a partire dalla battaglia in Inghilterra introduceva i concetti di Fighter Sweep che consisteva appunto in una missione con proiezione in avanti dei gruppi di caccia atta proprio a intercettare gli intercettori e impedire che questi si avvicinassero ai bombardieri oggi in termini moderni questa tipologia di missione si chiama BARCAP che sta per Barrier Combat Air Patrol che detta in italiano suonerebbe un po' come pattuglia di sbarramento aereo ovvio i bombardieri avevano ancora bisogno di una scorta ma questa non doveva volare in formazione stretta insomma non serviva a niente una cosa del genere doveva invece trovarsi più in alto con valori energetici tali da poter intervenire all'istante sui caccia che sarebbero filtrati oltre la Fighter Sweep quello che ho descritto fu quello che poi si verificò fra l'estate e l'autunno del 1940 sulla Manica in quella che viene chiamata Battaglia di Inghilterra le formazioni tedesche decollavano dal Belgio e dalla Francia occupata e si riunivano per scortare i bombardieri e le loro incursioni sugli aeroporti inglesi le città e le fabbriche la risposta degli inglesi fu adeguata e presto la RAF si adeguò al gioco dei piloti tedeschi con formazioni altrettanto larghe e attacchi dall'alto che venivano coordinati da un enorme lavoro dei centri di comando che raccoglievano le informazioni degli osservatori a terra e dai radar per coordinare il punto di intercetto delle squadriglie sulle grandi informazioni tedesche in arrivo questo tipo di approccio da parte della RAF fu il precursore fondamentale di un'enorme innovazione nel combattimento aereo infatti furono loro i primi a introdurre il concetto di guida caccia o GCI che sta per Ground Controlled Interception letteralmente intercettazione controllata da terra ci si rese conto di quanto la maglia radar e tutte le postazioni a suolo fossero determinanti per coordinare al meglio le squadriglie all'intercetto la loro ciclazione la gestione delle risorse e così il lavoro del bunker come per esempio il numero 10 con la sua sala di controllo diventerà celeberrima anche nei film dedicati a questa battaglia dove si vedono queste donne che aggiornavano continuamente in tempo reale la posizione delle squadriglie in volo e sarà questo modello di operatività sarà il modello di precursore dei moderni centri di comando mobili come gli AWACS per esempio e la guida caccia in senso moderno enti strategici e tattici senza i quali i piloti in volo non avrebbero mai una visuale di insieme del teatro operativo nella battaglia in Inghilterra questa coordinazione permise agli inglesi di resistere alla Luftwaffe per quella guerra aerea che è strana che non vide mai nessuno sbarco o nessuna truppa di terra e questa guerra introdusse concetti importantissimi per la guida dei piloti da caccia che diventeranno la base per la guerra fredda e la guerra moderna che come la conosciamo oggi ma per tornare al combattimento aereo dell'epoca la battaglia in Inghilterra vide una sorta di adattamento delle tattiche fra i due schieramenti come dire i piloti inglesi impararono la lezione e si applicarono presto in tattiche speculari a quelle dei piloti tedeschi come ho detto poco fa i comandanti di squadriglia sui vari campi volo sparsi in giro nel sud dell'Inghilterra si trovarono a gestire un enorme quantitativo di piloti freschi di brevetto e se fino al 1940 era esistita una sorta di elite per cui solo chi aveva titoli nobiliari accedeva ai corsi di volo con le enormi perdite subite e parliamo di almeno 200 piloti al giorno presto si iniziarono ad arruolare giovani di tutte le estrazioni sociali e spesso venivano anche dai paesi occupati francesi, polacchi, ciecoslovacchi ebbero un ruolo fondamentale in quei giorni e negli anni a seguire nel tentativo di ridurre le perdite il comando della RAF fece riempire le lavagne dei campi volo con tre scritte fondamentali che in qualche modo sintetizzarono alla perfezione tutto quello che era stato imparato fino a quel momento per quelle che oggi potremmo definire le tre regole auree del combattimento aereo queste tre regole scritte in jet spesso sulle lavagne dovevano essere applicate dai piloti e dicevano al primo posto la tua vita prima di ogni altra cosa cioè pensa a te stesso e a salvarti la vita prima di ogni altra cosa al secondo posto la vita dei tuoi compagni al terzo posto la missione seguire queste tre leggi in ordine di importanza permetteva di essere conservativi e tornare alla base per ripetere un'altra missione e questo era piuttosto ovvio perché come ho detto l'Inghilterra durante la battaglia spesso si trovò molto più accorto di piloti che di aeroplani uno Spitfire si poteva sostituire in poco tempo un pilota non era così facile da preparare e da sostituire allo stesso modo in ogni caso dall'altra parte del globo i piloti volontari in Indocina e Cina si ritrovarono presto in una situazione molto simile a quella dei volontari russi in Spagna contro piloti giapponesi che erano molto più addestrati e disciplinati gli zero giapponesi si erano dimostrati avversari pericolosissimi molto maneggevoli e veloci e avevano distrutto e abbattuto tutto quello che avevano incontrato sul loro cammino tutti sanno che gli americani non entrarono ufficialmente in guerra fino al dicembre del 41 a seguito dell'attacco subito a Pearl Harbor una delle prime squadriglie ad assistere alle operazioni almeno in Cina fu quella delle tigri volanti che volarono su P40 a partire dal 20 dicembre 1941 pochi giorni dopo l'attacco a Pearl Harbor ora su questi eventi c'è un bel libro che vi consiglio che è La storia di Papi Boynton il libro è chiamato L'asso della bottiglia se riuscite a trovarlo cito solo un aneddoto che mi fa ridere ancora oggi quando questi volontari americani si arrollarono in questo gruppo gli ufficiali per il reclutamento cercavano di minimizzare a tutti i costi le capacità dei giapponesi con frasi del tipo non dovete preoccuparvi i piloti giapponesi sono tutti miopi portano gli occhiali ora la realtà ovviamente era ben diversa e non a caso quegli occhiali non erano per la vista ma erano gli occhiali da pilota che servivano a proteggersi dal vento quando si apre il tettuccio in volo quindi i piloti giapponesi erano in realtà molto ben preparati e i primi scontri aerei con gli americani furono delle sconfitte eclatanti ho citato le tigri volanti o pecore nere perché sono un caso significativo di quello che accade poi in tutta la guerra del pacifico i piloti americani in sostanza capirono che accettare un combattimento manovrato contro uno zero era un suicidio al contrario di quello che viene raccontato nel film Pearl Harbor di Michael Bay non c'era destrezza capace di battere un pilota giapponese sul suo zero quindi per gli americani fu necessario studiare qualcosa che avrebbe evitato un massacro e quindi arrivarono alla fine anche loro ai concetti espressi da Boelke nel lontano 1915 stesse identiche soluzioni il P40 era un poco più veloce rispetto allo zero ma questo permise alla squadriglia di Pappy Boynton di ottenere buoni risultati e la squadriglia divenne presto leggenda queste tattiche poi furono applicate con successo a partire dal 1942 specialmente dopo il punto di svolta cruciale che rappresentò la battaglia delle Midway e con l'ingresso di aerei come le F6 F5 Hellcat e le F4 Corsair che avevano velocità di punta migliori dei caccia giapponesi i piloti americani continuarono a insistere sui concetti come vantaggio tattico e quota e fare attacchi morti e fuggi e quindi queste furono le scoperte più importanti nelle due guerre mondiali se parliamo di caccia almeno la coordinazione con l'utilizzo delle radio unite alla disciplina resero sempre più efficaci gli attacchi aerei specialmente poi contro i bombardieri nemici e la Luftwaffe per intenderci resterà un avversario terrificante per gli alleati fino al 1945 in un certo senso la disciplina del combattimento aereo si sviluppò insieme ad un'altra disciplina molto più drammatica e terrificante che nacque in antitesi con essa per contrastarla la teoria del bombardamento aereo il generale italiano Giulio Doucet non so come si pronuncia correggetemi autore del comando dell'aria fu un teorico fondamentale di questa scuola che è stata associata all'affermazione di Stanley Badwin secondo cui il bombardiere riuscirà sempre a passare cioè indipendentemente dalle difese aeree un numero sufficiente di bombardieri sopravviverà per far piovere distruzione sulle città nemiche queste idee condizioneranno l'intero andamento della seconda guerra mondiale e non solo avranno conseguenze fino ai giorni nostri con convinzioni molto difficili da sradicare e che permetteranno i crimini di guerra peggiori dell'umanità giusto dopo l'olocausto nazista e oltre a sortire effetti discutibili poiché la Germania per esempio nonostante i bombardamenti diurni e notturni non si arrenderà e che appunto sarà necessario conquistare la via terra lo spirito dei cittadini non verrà mai distrutto con i bombardamenti aerei anzi posso affermare con assoluta certezza e qui invito tutti gli storici a smentirmi che i bombardamenti aerei sulle città nel corso della storia hanno sempre avuto un effetto contrario l'effetto di far arrabbiare ancora di più la popolazione di aumentarne la resistenza e ci sono casi emblematici come per esempio uno su tutti Dresda per esempio che dopo i devastanti incendi causati dai bombardamenti le persone accorsero da tutta la regione per aiutare i superstiti e gli stessi cittadini londinesi dall'altra parte della barricata protestarono con il governo per la brutalità dell'azione verso una città tecnicamente nemica i bombardamenti in Italia per esempio su Genova Roma Milano non furono meno violenti attenuati soltanto dal fatto che i nostri palazzi per lo più costruiti in pietra non prendevano fuoco come speravano i generali inglesi al tempo i bombardamenti sulle città italiane non aiutarono a far cadere la dittatura di Mussolini mentre fu la fame e l'avanzata sul territorio da parte degli americani a farlo questo discorso prendetelo con le pinze ma sto parlando esclusivamente del bombardamento indiscriminato delle città e dei civili che avvenne nella seconda guerra mondiale se parliamo di bombardamenti strategici il discorso è diverso i bombardamenti sulle fabbriche tedesche e italiane misero in ginocchio la produzione bellica tanto per fare degli esempi la linea di produzione dei caccia italiani fu arrestata del tutto per questo i tedeschi videro un enorme elogoramento delle loro produzioni industriali e non a caso si dice che la mancanza di carburante e l'utilizzo di benzine sintetiche fu responsabile di molte più perdite di aerei che dei caccia alleati stessi quindi il grande errore di Giulio D'Ocet in sostanza fu quello di sopravvalutare il potere aereo inteso come arma assoluta oggi sappiamo che non è così ma all'epoca queste idee presero piede ed ebbero conseguenze drammatiche oggi sappiamo benissimo che una campagna aerea non porta a nulla senza un'avanzata di terra che le operazioni aeree possono ottenere certi risultati ma in modo molto limitato e che se attaccata esclusivamente via aerea una nazione non si arrenderà mai ma nonostante questo queste idee verranno portate avanti e nel dopoguerra con lo sviluppo dei grandi bombardieri nucleari si arriverà a concetti paradossali come la strategia della deterrenza il deterrente nucleare e alla via così e ancora oggi le nazioni misurano la loro potenza dell'aeronautica in base al numero di bombardieri disponibili caccia bombardieri e intercettori e via così il discorso poi si fece molto diverso per quanto riguardava l'impiego dell'arma aerea nelle operazioni navali episodi come l'attacco a taranto per l'arbur l'affondamento della bismarck e di tutte le corazzate dimostrarono in modo inequivocabile che lo strumento aereo sarà molto più efficace nella proiezione delle operazioni navali via mare e introdurrà il concetto delle portaerei come una nuova arma fondamentale soprattutto nella guerra del pacifico prima e negli anni successivi durante la guerra fredda ma la guerra fredda è tutta un'altra storia e la vedremo la prossima volta e con questo è tutto i simulatori che ho utilizzato oggi sono due Rise of Flight per quanto riguarda la prima guerra mondiale che è un titolo della 1C e Cliff's of Dover per quanto riguarda la battaglia d'Inghilterra spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti come sempre un abbraccio alla prossima grazie a tutti